Polizia e forze dell'ordine continuano i servizi mirati al rispetto delle norme del decreto Conte meglio conosciuto come io resto a casa. Dalla prefettura di Peso Rubino fanno sapere che sono stati 535 i controlli effettuati solo nella giornata di ieri 15 marzo per la verifica sull'osservanza del divieto di spostamento previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri dell'11 marzo del 2020. Le violazioni contestate sono state 23 con conseguente segnalazione dei trasgressori alle competenti autorità giudiziarie. Sempre nella giornata di ieri sono stati compiuti oltre 330 controlli anche nelle attività commerciali autorizzati all'apertura ma che devono garantire anche le norme di sicurezza controlli che non hanno dato alcun esito a contestazioni o violazioni. Le forze dell'ordine si raccomandano alla puntuale osservanza delle norme di contenimento previste dal decreto che invita a limitare le uscite di casa ai soli casi previsti che ricordiamo essere le comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e di necessità. Queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione del famoso modulo fornito dalle forze di polizia o anche scaricato da internet. Attenzione però perché in seguito a queste autodichiarazioni verranno poi fatti dei controlli sulla loro veridicità. Pertanto è bene tenere da conto in caso si venga fermati i giustificativi, lo scontrino della spesa o della farmacia o il certificato del medico o altro comunque che attesti quanto dichiarato agli agenti e nell'autodichiarazione. Una falsa dichiarazione più volte viene ricordato che costituisce un reato.